buongiorno oggi faremo la pizza espressa con lievito in polvere allora per questo avremo bisogno di un chilo di farina 100 ml di acqua tiepida per attivare il lievito 550 grammi di acqua tiepida per l'impasto 65 per cento 32 grammi di lievito in polvere 30 grammi di sale 40 ml di olio extravergine di oliva e due cucchiaini di zucchero per attivare sempre il lievito adesso procediamo buongiorno 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.